Trovato senza vita un uomo di 50 anni all'interno di un B&B a Termoli originario di Sernia si trovava lì per lavoro sul posto Carabinieri 118 pare sia stato colto da un malore. Sono scoraggianti i dati riguardo il contagio da Omicron in Italia e in Molise intanto l'ASREM autorizza due nuove terapie per la cura dei positivi in casa. Dal Partito Comunista dei Lavoratori una nota sui disagi e le lunghe attese agli sportelli delle poste italiane ma anche la solidarietà ai dipendenti che scioperano. Nel nostro appuntamento settimanale con Focus in onda questa sera alle 21 si parlerà di tutele alle persone grazie alla presenza di Cittadinanza Attiva. Buongiorno a tutti un caro saluto e ben ritrovati con il telegiornale di TLT ed è stato trovato senza vita all'interno di una camera di un bed and breakfast di Termoli nei pressi dell'ospedale Santimote. Un cinquantenne di Isernia che si trovava nella cittadina adriatica per motivi di lavoro a dare l'allarme sarebbero stati i familiari sul posto, i carabinieri e i medici del 118 ad analizzare il tutto. Adesso la procura di Larino dalle notizie apprese pare che l'uomo sia stato colto da un malore. E cambiamo adesso argomento e torniamo a parlare di pandemia e della nuova variante Omicron. I numeri del Covid sono sempre più elevati e si valuta se aggiornare adesso settimanalmente il report in Molise. Campobasso e Termoli, centri più colpiti, intanto buone notizie invece per la sanità molisana perché ci sono in arrivo 44 milioni e mezzo di euro. Ma vediamo. Ancora numeri elevatissimi a causa del contagio da coronavirus in Italia e Molise. Nelle ultime ore nuovi positivi e sale l'indice RT. I ricoveri attuali a Cardarelli di Contrada Tappino però scendono a 20. Al momento a destare preoccupazione era proprio la sanità e il rischio di una nuova emergenza all'interno dei reparti Covid. Intanto in queste ore l'azienda sanitaria regionale ha approvato il documento di indirizzo per la terapia con i farmaci antivirali dei pazienti affetti da Covid. Il trattamento è rivolto a quelli adulti non ospedalizzati con malattia lieve o moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche con comitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo del Covid-19 grave. In questo caso si raccomanda in particolare che la somministrazione avvenga il più rapidamente possibile dall'esordio ed entro 5 giorni dalla comparsa della sintomatologia. Un altro trattamento è rivolto invece ai pazienti adulti non ospedalizzati e non in ossigenoterapia per Covid con insorgenza di sintomi lievi moderati da non oltre 7 giorni in presenza di condizioni cliniche predisponenti che rappresentino dei fattori di rischio. L'individuazione dei pazienti sintomatici positivi candidabili alle terapie con questi antivirali è affidata ai medici di medicina generale, alle USCA in generale e ai medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da Covid. Intanto buone notizie giungono sul fronte sanitario. Dalla conferenza Stato-Regioni 44 milioni e mezzo di euro destinati alla sanità molisana. Soddisfatto il governatore Donato Tome in merito alla ripartizione di oltre 6,5 miliardi di euro del piano nazionale di ripresa e resilienza e di circa 1,5 miliardi del piano nazionale per gli investimenti complementari destinati alla sanità. Case di comunità, assistenza domiciliare, telemedicina, ospedali di comunità, modernamento tecnologico e digitale degli ospedali, sicurezza, sostenibilità ospedaliera, ma anche analisi dei dati e tanto altro sono gli assi portanti del nuovo sistema sanitario sui quali le regioni sono chiamate ad intervenire. Nella settimana dal 5 all'11 di gennaio si rileva un aumento del 49% dei nuovi casi di Covid, che sono stati 1.207.689 rispetto agli 810.535 della settimana precedente. A rilevarlo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che parla di misure insufficienti per frenare i contagi, secondo i dati, intanto, resta stabile al 18% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid, ma cala in 8 regioni. Dal 1 febbraio chi è senza Green Pass rischia di perdere anche la misura del reddito di cittadinanza. In Italia sono molti quelli che rischiano così di dover dire addio al sussidio. Chi non è vaccinato e non ha avuto accesso al certificato verde e usufruisce della misura del reddito di cittadinanza, dal prossimo mese potrebbe rischiare di perderlo. Dal 1 febbraio, di fatti, il Governo nazionale ha deciso che chi è senza Green Pass perde automaticamente l'assegno. Diventa poi obbligatoria la visita ai centri per l'impiego, ma senza la certificazione non si entra negli uffici. Il mix tra legge di bilancio e il decreto del 7 gennaio che inasprisce le regole sulla certificazione portano a questo risultato. Chi percepisce il sussidio dovrà di fatti obbligatoriamente frequentare i centri per l'impiego, ma per entrare dovrà presentare il Green Pass Light che si ottiene con il tampone. Insomma, un invito a vaccinarsi per evitare di rimanere senza assegno. È una morsa che continua a stringersi, quella nei confronti dei Novax, ma non solo. Anche i centri per l'impiego saranno territorio off-limits per chi non è vaccinato o quantomeno tamponato. L'obbligo vaccinale per gli over 50 è entrato in vigore il 10 gennaio. Ha già convinto oltre 40 mila Novax di quella fascia di età. Intanto l'associazione Presidi si dice d'accordo con l'idea del Ministero competente dell'istruzione di istruire vaccinari nelle scuole. Almeno una dose all'89,95% della popolazione. Le misure adottate dal Governo nazionale sembrano quindi funzionare. Cifre inedite che arrivano nel giorno in cui i Green Pass scaricati toccano ormai quota 194 milioni. Si torna ora a parlare della nomina del sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo a presidente del COSIV di Termoli. Nomina segnalata negativamente dall'autorità nazionale anticorruzione. Arrivata a riguardo un'interrogazione del deputato molisano Antonio Federico. Andiamo a vedere nei dettagli. La vicenda che ruota attorno alla nomina del Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno prova la necessità di un percorso di riforma che riguardi l'inconferibilità al vertice di enti pubblici di chi fa politica. Per questo ho depositato un'interrogazione al Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e alla Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Sono queste le parole che il parlamentare molisano Antonio Federico scrive in un suo comunicato dove entra in merito alla nomina del sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo a presidente del COSIV, una nomina molto discussa che è stata segnalata con giudizio estremamente negativo a suo tempo dall'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, giudizio negativo che ha voluto ribadire in questi giorni. L'ANAC basa la sua linea sulla scelta di dover evitare che gli incarichi degli enti pubblici siano attribuiti in occasione di un mandato politico e non in base ai criteri di merito e professionalità. Per il deputato molisano la nomina è andata anche contro la legge Severino per la quale non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale a chi abbia ricoperto incarichi pubblici nei due anni precedenti o un anno nel caso di incarichi nell'aggiunta o nel Consiglio di province comuni con meno di 15.000 abitanti. Roberto Di Pardo invece è stato nominato presidente del COSIV a novembre 2020, mentre eletto nel 2017 ricopriva, come ancora ricopre, la carica di sindaco di Petacciato e dal 2019 riveste quella di consigliere dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno. Da tutto questo scaturiscono i profili di inconferibilità denunciati in procura dal gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Molise, dai quali è poi scaturita la sentenza dell'ANAC che ha bocciato la nomina. Tuttavia, l'organo di vigilanza del COSIV ha comunque ritenuto legittima la posizione del presidente, una situazione che ha spinto la segnalazione al Parlamento attraverso l'interrogazione dell'onorevole Federico ai ministri Brunette e Lamorgese per sollecitarli ad adottare iniziative normative che regolino le nomine ai vertici di enti pubblici, trovando i modi e le maniere di separare la politica e le nomine per garantire una buona amministrazione e prevenire i rischi di corruzione e la mancata trasparenza. Passiamo invece adesso alla cronaca. Ancora droga a Campomarino, un luogo dove sembra esserci una frontiera di attività di spaccio e dove negli ultimi tempi sono scattate numerose denunce ed effettuati alcuni arresti. L'ultimo episodio nella serata di ieri quando i carabinieri hanno fermato un diciottenne del luogo già censurato che addosso nascondeva una busta di plastica contenente poi 57 grammi di cocaina. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari, sottoposto dal magistrato all'obbligo di dimora, mentre è scattata la denuncia per un altro giovane coetaneo che era invece in sua compagnia. Cambiamo adesso argomento dal Partito Comunista dei Lavoratori, una nota sui disagi le lunghe attese, agli sportelli delle poste italiane, ma anche la solidarietà verso i suoi dipendenti che scioperano non attuando lo straordinario. Andiamo a vedere questo servizio. Gli scioperi tutti portano con loro mille disagi per i cittadini e gli utenti, disagi necessari per smuovere le aziende ad accettare le richieste dei lavoratori o quantomeno aprire le varie trattative. È uno strumento, l'unico, e serve a creare una possibilità di confronto che non sia sbilanciato e che diventi quasi paritario tra le parti. Per questo il Partito Comunista dei Lavoratori del Molise esprime la piena solidarietà ai dipendenti di poste italiane che scioperano a difesa dei loro diritti e nella garanzia di una migliore organizzazione del lavoro, uno sciopero che di fatto si è tradotto nel blocco degli straordinari. Una solidarietà, questa del Partito Comunista dei Lavoratori, che arriva anche se in questo periodo di emergenza i disagi sono decisamente aumentati e i cittadini che richiedono i servizi postali sono sempre più gravati da lunghe attese agli sportelli e molte altre difficoltà, tra le quali quelle determinate proprio dal fatto che il personale in mobilitazione in massima parte non accetta di effettuare gli straordinari. Il problema nasce da una situazione palese, una organizzazione che avrebbe bisogno di tanto personale in più, di sportelli che siano abilitati e che siano disponibili, nell'ambito del lavoro ordinario, a sbrigare tutte le pratiche e senza creare disagi e lunghe code. La solidarietà nasce da questo contesto dove, come affermano dal Partito Comunista dei Lavoratori, è davvero assurdo che a fronte di tanto lavoro, anziché potenziare gli organici e ridurre la disoccupazione, si chiedono sempre più straordinari. L'amministrazione comunale di Campobasso ha avviato il bando pubblico per la formazione delle graduatorie, per la concessione in uso temporaneo dei lotti di terreno inerenti l'orto comunale sito in via Campania, per il Comune promuovere effettivamente sul proprio territorio la realizzazione di orti urbani, sociali, orti collettivi e condivisi e didattici, un mezzo per veicolare i principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, insieme alla riscoperta dei valori delle produzioni locali, dell'educazione ai temi della sostenibilità ambientale, della promozione della biodiversità. Sono invece drammatici i dati riguardanti il turismo in Italia in questi mesi, proprio a causa del dilagare della variante Omicron, a rimetterci agriturismi, hotel, zone scistiche, l'aumento dei contagi non aiuta a questi settori, ma andiamo a vedere. L'ondata di contagi si ripercuote anche sul turismo. A rimetterci agriturismi, hotel e scuole di sci. Il Covid ha bloccato anche le vacanze invernali, i pranzi in famiglia con amici al ristorante. Ammonta ad oltre 10 miliardi di euro il taglio complessivo delle spese turistiche in Italia per l'intero anno del 2021 rispetto alla prima pandemia, con un terzo delle perdite che hanno colpito i consumi in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per l'acquisto di cibo di strada. E questo è il dato che emerge dagli ultimi dati Istat riguardanti l'andamento turistico. A mancare all'appello sono stati soprattutto i turisti stranieri bloccati alle frontiere dall'avanzare dei contagi e dalle misure di restrizione adottate. Ma a calare sono state anche le presenze nazionali, soprattutto nelle festività di fine anno, mentre risultati più positivi si sono registrati nel periodo estivo appena trascorso. Il settore della montagna ne ha pesantemente risentito e regione non si può dire di meglio. Le stazioni scistiche di Campitello Matese sono state chiuse per molto tempo e solo poche settimane fa è tornato a funzionare quasi tutto. Il problema è che i contagi corrono e la gente ha timore di esporsi a rischi. Si evitano così le cene, i pranzi negli agriturismi molisani, le giornate in montagna e raduni fra amici nei locali. Si fermano anche i viaggi da una regione all'altra, insomma, anche se non del tutto, ci si ferma. Di nuovo, in attesa che le cose, nonostante i vaccini, possano migliorare. Il nostro focus settimanale in onda questa sera alle 21 con repliche venerdì alle 15.30 e sabato alle 21 si occuperà delle tutele alle persone. Lo fa attraverso cittadinanza attiva ed i suoi dirigenti regionali Hula Papa e Francesco Cannarsa. Ma andiamo adesso a vedere un estratto delle interviste. Noi abbiamo questi nostri sportelli per qualsiasi cittadino che ha un qualsiasi problema, un dubbio, vuole un'informazione, vuole essere tutelato. Siamo, diciamo, proprio per la cittadinanza, quindi nell'eventualità siamo sempre a disposizione. L'indignazione, come diceva Francesco, deve rimanere sempre alta dalla parte del cittadino. Ricordiamoci che non sappiamo di non sapere, quindi è sempre importante conoscere quali sono i nostri diritti. Noi lo facciamo attraverso la nostra tutela e questa è una cosa importantissima che ci dà la possibilità di diventare consapevoli e che quindi nel momento in cui dovremmo fare delle scelte, soprattutto per quanto riguarda l'ambito della salute, che è una cosa veramente importantissima per noi, bisogna che siamo veramente consapevoli. Mi ricollego a quello che ha detto Iula e penso che tutto sommato ci siano i margini affinché la crisi possa trasformarsi in opportunità. Mi auguro di vedere le cose e che tutti vedano le cose in questa maniera. Agevolazioni nei parcheggi per i velicoli elettrici ed ibridi è il primo provvedimento nella città di Campobasso per agevolare l'impiego di auto a basso impatto di inquinamento atmosferico sull'ambiente. Andiamo al servizio. Pingere quanto più possibile la mobilità alternativa a zero emissioni di gas inquinanti è l'intento dell'amministrazione al comune di Campobasso. Per questo 2022 quindi esenzione totale dal pagamento dei parcheggi per le automobili elettriche, mentre per quelle a motore ibrido sarà consentito di sostare in forma gratuita per il primo anno di immatricolazione. Dal municipio viene pure confermata per quest'anno la possibilità per residenti o lavoratori nel centro storico di poter stipulare abbonamenti con la SEA per il posteggio nelle strade a pagamento della zona murattiana. Al termine dei periodi di gratuità previsti ci saranno abbonamenti agevolati che autorizzano a stazionare nei parcheggi pubblici a pagamento a partire dai 20 euro per quello mensile, 50 l'abbonamento trimestrale, 90 nell'arco dei sei mesi e l'ultimo di 150 euro per l'abbonamento annuale. Altra agevolazione per i veicoli ibridi. Nel secondo anno di immatricolazione è prevista l'esenzione totale dal pagamento della sosta con l'unica condizione di parcheggiare l'auto su una sola strada a scelta del conducente. Ma da Palazzo San Giorgio non è tutto. Dalla primavera partiranno opere pubbliche in diverse aree del centro urbano e periferie che riguardano l'illuminazione con 200 nuovi punti luce e l'abitumazione delle strade più degradate in contrada Santa Lucia, coste di Oratino e Selva Piana. Infine sono stati programmati lavori per rinnovare i marciapiedi nelle vie De Pretis, Principe di Piemonte, Sant'Antonio dei Lazzari e Lungovia Scardocchia. Da domani stoppa in Italia la vendita della plastica monouso in vigore e la direttiva europea Salva Pianeta. Vediamo come. L'Italia da domani in linea con le direttive europee dice stoppa la vendita della plastica monouso. Il divieto riguarderà oggetti non compostabili e non biodegradabili. Addio quindi a piattini e posate vecchio stile a cotonfioc. Esercenti e produttori potranno usare le scorte esistenti fino ad esaurimento. Quindi per i prossimi mesi questo materiale sarà ancora presente sugli scaffali dei negozi al dettaglio. Il decreto emanato con l'intento di promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili punta a produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso. Per i trasgressori saranno previste anche multe da 2.500 fino a 25.000 euro. Ci saranno anche agevolazioni per le aziende che utilizzeranno oggetti riutilizzabili, compostabili o biodegradabili. A loro sarà infatti riconosciuto un credito di imposta nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro ogni anno da 2022 fino a 2024. Sono previste inoltre campagne di sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate sui prodotti riutilizzabili. Il pianeta deve essere salvaguardato e le nuove direttive green puntano proprio a migliorare l'ecosistema. Con tale misura diminuiranno i rifiuti e a risentirne positivamente saranno non solo gli uomini ma anche le specie animali, soprattutto quelle marine, che da anni pagano lo scotto dell'incuria umana. Si terranno nella giornata di sabato presso la Casa della Salute di Via Padre Pio a Montenero di Bisaccia dalle 9 alle 13 le vaccinazioni anti-covid per i bambini dai 5 agli 11 anni di età. Si ricorda che saranno disponibili 200 dosi e le prenotazioni possono essere effettuate sulla piattaforma regionale. Rivolgo ancora un invito ai genitori dei piccoli, dichiara il sindaco Simona Contucci, a prenotare il vaccino. Sollecita poi coloro che avessero ancora dei dubbi in merito alla vaccinazione a rivolgersi al proprio pediatra che saprà dare tutti i chiarimenti del caso. Ma adesso andiamo a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Cielo prevalentemente soleggiato oggi sul Molise, debole nuvolosità sul litorale costiero, dalla sera generalmente stellato sulla regione. Le temperature odierne sono comprese tra lo zero, la minima, Campobasso e i 9 gradi di termoli. Ventilazione settentrionale e mosso il mare Adriatico. Domattina tornerà il sole sulle due province. Valori climatici in aumento, correnti da nord. Apriamo una nuova pagina sportiva. Aggiornate le regole del protocollo anti-covid per lo sport professionistico italiano. Accordo raggiunto su invito della sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali. La conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l'intesa per un nuovo protocollo che riguarda gli sport professionistici. Normative che toccano prima fra tutti il mondo del calcio, dalla serie A alla terza serie. Ora il blocco dell'intera squadra è previsto se il numero di atleti positivi è superiore al 35% dei componenti del gruppo. Nuove disposizioni anche per eventuali positività. Isolamento per i contagiati e test continui per cinque giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo di indossare mascherine FFP2 se non si effettua alcuna attività sportiva. All'intesa raggiunta in ambito nazionale guarda con interesse il campo basso impegnato quest'anno nel girone meridionale della Lega Pro. Nel club del presidente Mario Gesue ci sono ancora pochi contagi tra i calciatori, ma il quadro generale in netto miglioramento, il mister Mirko Cudini, guarda con fiducia alla ripresa del torneo in casa domenica 23 contro i campani della Juve Stabia, dopo due turni di interruzione proprio per via del dilagare della variante Omicron in atto anche tra gli sportivi da nord a sud della penisola. Il Cusse Molise sabato pomeriggio, dopodomani sarà impegnato a Biterbo contro la capolista del girone C di Serie A2 di calcio a 5 l'Active Network. Per la squadra del tecnico Marco Sanginari è una sfida vincente a cospetto di un'avversaria che ha già vinto il titolo d'inverno. Abbiamo preparato nel migliore dei modi la gara in casa di una squadra dalle grandi potenzialità. Proveremo a conquistare i primi punti del nuovo anno, fa sapere così il capitano del quintetto rosso-blu, Antonio Di Stefano. E con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio e vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!